ciao a tutti bentornati sul mio canale vi voglio presentare questa bellissima collezione di madame glam di sei colori pudding gel i pudding gel sono dei paint molto densi senza dispersione e super coprenti si possono usare per qualsiasi tipo di design per questo design ho mischiato il verde con un po di bianco per ottenere un verde chiaro per avere un bel risultato noi interessa disegnare bene il rombo centrale grazie a tutti grazie a tutti quando ho finito di disegnare asciugo tutto in lampada prima di attaccare adesivi tolgo la dispersione quando ho finito copro tutto con finale opaco e asciugo la lampada con top coat senza dispersione copro solo le strisce adesive questo pennello di madame glam è uno dei miei preferiti con quale è molto facile applicare questo poi si ti pui dipende questo poi si ti pui dipende questo poi ci pui dipende per questi tipi di design io preferisco di curare ogni dettaglio separato quando ho finito di disegnare l'ornamento non asciuggo in lampada spolvero sopra la polvere acrilica e dopo asciughiamo in lampada spolvero sopra la polvere acrilica e dopo asciughiamo in lampada spolvero sopra la polvere acrilica e dopo asciughiamo in lampada quando si tratta di effetto maleone consiglio sempre di asciugarlo per 2 minuti in lampada mescolò il colore con base gel per farlo diventoare più liquido musica 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 quando ho finito di insegnare l'ornamento non asciuggo in lampada musica 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 Mescolo il colore con top coat senza dispersione. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!